Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in Viagloc, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Questo ragazzo della mia clube si è finita a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, me lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, Domenico non sei contento, vai finalmente a Sabre in città, là dove c'era l'erba, ora c'è. C'è una macchina, ecco che arriva Piero qui e se ne va. Piero dove vai? Dai vieni qua, dai! Prendo il giornale e leggo che di tutto il mondo non ce n'è, come mai il mondo è così brutto, si siamo stati noi a rovinare. E sto capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo, nel cielo, nel cielo. Dai, 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 dai. Quattro! E leggo che... La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. E tu senza di niente ne hai trovato il coraggio. Padola padapeparepareparepare waiaОia. Se un uomo tradisce, tradisce a metà per 5 minuti e non è disminuzione. Per 5 minuti non è più qua. La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. E tu senza di niente ne hai trovato il coraggio. Padola, padapeparepare-vaia. Se un uomo tradisce, tradisce a metà per cinque minuti e non è... Senza di niente ne hai trovato il coraggio, e tu senza di niente ne hai trovato il coraggio... Se un uomo tradisce... Where's it? 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 Where's it?